Allora Stellone, intanto i complimenti per la vittoria perché sono tre punti pesantissimi però sul campo il Pescara ha dimostrato di essere una grande, grandissima squadra. No, colgo l'occasione per scusarmi da parte di un nostro dirigente, non un giocatore che è finita la partita e è andato a insultare la panchina del Pescara quindi è mancato di rispetto, non è stato molto corretto perché è finita la partita e finisce tutto quindi al di là delle situazioni che possono nascere durante una partita dove è stata una partita maschia e non bisognava fare quel gesto quindi di questo me ne scuso, no, di questo ragazzo che ha peccato di non correttezza. La partita l'abbiamo vista, è stata una partita dove il Pescara anche in dieci ci ha messo in seria difficoltà quindi faccio veramente i complimenti a loro perché è una squadra forte, è una squadra che attacca è una squadra che non sta lì per caso ed è una squadra che secondo me arriverà fino alla fine del campionato in testa della classifica perché noi abbiamo incontrato un po' tutte le prime tra la Torres, Lentella, la Ternana e il Pescara oggi anche in dieci ha dimostrato di essere una squadra molto molto forte quindi complimenti a loro. Noi abbiamo fatto la partita che dobbiamo fare, insomma abbiamo cercato di spessare il gioco loro abbiamo cercato di vincere più seconde palle possibili e i primi 20 minuti in parità numerica siamo andati abbastanza bene forse anche meglio di loro nei primi 20 minuti poi dopo l'espulsione forse inconsciamente pensavamo di giocare più facile e invece non è stato così, l'hanno attaccato, hanno attaccato nonostante hanno preso gol hanno continuato ad attaccare, non si sono demoralizzati e negli ultimi dieci minuti solo per un pizzico di fortuna che a volte non guasta mai abbiamo portato a casa i tre punti insomma quindi sono contento logicamente per i tre punti e faccio di nuovo i complimenti sia ai miei ragazzi per lo spirito che hanno avuto perché comunque andiamo ad affrontare la squadra più in salute la squadra più forte del campionato che non aveva mai perso ringrazio i nostri tifosi che sono venuti comunque in tanti a dare sostegno e sono sicuro come ho detto prima che il Pescara arriverà lontano perché è una squadra con un allenatore molto forte è una piazza importante poi chiedo un'ultima cosa perché ha fatto un'analisi completa a 360 gradi le chiedo se vuole commentare quello che ha detto il direttore Pasquale Foggia ai nostri microfoni ha detto l'arbitro è stato non scarso, scarsissimo io ci ho preso due giornali infatti credo che qualcuno la prenda anche lui ha detto da calciatore e da dirigente ne ho viste di partite uno così scarso non l'ho mai visto logicamente quando è capitato a noi in altre occasioni anche io ho detto proprio lo stesso termine perché poi capita adesso non devo rivedere la partita per capire gli errori dell'arbitro alla fine spero e penso che si bilancia un po' tutto insomma non nelle partite precedenti due o tre rigori al novantesimo ci sono stati negati e io ho detto la stessa cosa nell'intervista insomma io penso che alla fine dell'anno come le partite che vinci magari non meritando a volte capita che vinci qualche partita meritando uguale a volte c'è il torto arbitrale a volte l'arbitro non dico che ti aiuta ma non fa più torti ma è a favore della tua squadra insomma quindi al di là di quello che ha detto il direttore insomma può capitare una situazione del genere capisco l'amarezza perché comunque si è persa la prima partita e ci può stare insomma però posso non ripartire la grande perché come ho detto prima squadra che mi ha impressionato veramente e ciò che mi ha detto prima